Ecco, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Il periodo non è tra i migliori, durante l'organizzazione ogni tanto qualcosa ci scappa, ci è scappato il fatto che siamo in piena raccolta, tra l'altro anticipata di una settimana, quindi insomma, per giustificare anche al nostro ospite la carenza di pubblico, di solito abbiamo un certo pubblico anche affezionato ai nostri eventi, quindi è questo il motivo. Ci seguiranno, siamo molto attenti e continuiamo a portare avanti la pratica di pubblicare online sul canale YouTube del Comune di Cles tutti gli eventi che facciamo, perché abbiamo, come dire, ricevuto numerose richieste anche di poter vedere, e quindi questa è stata ovviamente la soluzione migliore, le conferenze che facciamo, perché alcune delle quali, insomma, alcune di svago, alcune anche di dati, che sono veramente molto richieste. E questa, sono sicura, quella di Paolo, ripeto, che ringrazio a nome mio, a nome di tutti gli organizzatori della mostra e anche dell'amministrazione comunale di Cles, ha accettato appunto il nostro invito a poter parlare degli animali nell'arte. Ecco, perché Paolo, ripeto? Paolo, ripeto, e fra un attimo leggerò, come faccio sempre per non sbagliare nessun dato della biografia che ho, in questo caso, recuperato direttamente dal sito web, del sito ufficiale di Paolo, è una figura che per noi, a noi cara, comune di Cles, ma anche a me personalmente per, diciamo, l'ambito professionale, quindi di organizzazione e cura di mostre, perché è una figura molto, come dire, attiva nel panorama artistico, sia come conferenziere, saggista, scrittore, ma anche come collezionista. Non so se si può dire, ma insomma, credo di sì, collezionista, proviene da una famiglia di collezionisti, quindi nel mio percorso varie volte ha prestato dei pezzi molto importanti di arte contemporanea, in specifico, ma anche moderna. Quindi leggerò la biografia di Paolo. Paolo, ripeto, è nato nel 1965, laureato con l'Ode in lettere moderne con l'indirizzo di storia dell'arte all'Università di Genova. Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, diplomandosi in pianoforte. Da sempre, come storico e critico, ha approfondito le relazioni e le corrispondenze tra arte e musica. Per diversi anni ha insegnato storia dell'arte e storia della musica negli istituti civici di Torino e Asti. Ha pubblicato numerosi saggi e di seguenti libri, Il silenzio dei suoni, scritti sulla musica, Il sogno di Pan, saggio su Debussy, che sicuramente non ho pronunciato bene, L'orizzonte dell'eternità, la musica romantica, la visione dei suoni, arte e musica e il canto della luce, scritti sull'arte. Da diversi anni collabora con la Repetto Gallery, London, e la di primi Fine Art di Lugano, approfondendo la vasta realtà del mercato dell'arte contemporanea. Ha collaborato con Rete2, il canale culturale della Radio Svizzera Italiana e la stampa di Torino, recensendo libri sul supplemento specchio. Ha pubblicato numerosi scritti sulla rivista FMR, è critico musicale del mensile Amadeus, è critico d'arte del Corriere del Ticino. È visiting professor all'Università Ebraica di Gerusalemme. Ha insegnato analisi del mercato dello spettacolo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Musica Comparata, Arte e Musica, presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana. È curatore di mostre d'arte e concerti, quindi insomma direi che questo può bastare per annunciare appunto Paolo. Lo ringrazio ancora. E ecco, approfitto adesso per ricordarvi il prossimo appuntamento che è l'8 ottobre, se non sbaglio, giovedì 8 ottobre, grazie, e si parlerà di Marcello Fogolino e d'intorni, con due storici dell'arte, Marina Botteri Ottaviani e Luca Gabrielli. Quindi insomma vi consigliamo di raggiungerci nuovamente. Quindi prego Paolo e grazie mille. Il? 6 ottobre, giovedì 6 ottobre. Comunque sempre di giovedì. Io vi ringrazio a tutti. Io l'ho già stato qua a Cless qualche anno fa e ringrazio molto Lucia e Marcello. A margine di questa bella mostra farò alcune riflessioni abbastanza libere, toccando vari punti e appoggiandomi, come vedete, ad alcune immagini classiche. Naturalmente, sapete, l'argomento è sterminato. Cioè parlare di gli animali nell'arte è veramente un argomento sterminato. Il sottotitolo per cui di questo incontro potrebbe essere veramente in chiave divertente e comica, breve cenni sull'universo, perché andiamo a toccare veramente un argomento vastissimo. Allora, cosa fare? fermarci su alcuni punti, cercare di riflettere su alcuni temi che ritengo essere centrali. Il primo, naturalmente, è la relazione tra l'uomo e l'animale e l'animale e l'uomo. In realtà, qua tocchiamo già un punto molto profondo, perché l'uomo, noi siamo anche degli animali e l'animale in qualche modo ha dei sentimenti, ha delle caratteristiche umane. Per cui questa relazione fonda tra uomo e animale, animale e uomo, fonda questa rappresentazione artistica che, come vedete, naturalmente parte antichissima, parte dalla Sco e Altamira e le loro grotte, che adesso, peraltro, diversi anni sono chiuse e, come sapete, hanno fatto delle copie molto vicine, perché il calore umano, il fiato umano, l'anidride carbonica, le stava rovinando. In merito a questa relazione, vi dicevo, a mio avviso, occorre considerare due fatti fondamentali. Da una parte c'è, in questi ultimi anni, forte un movimento, una realtà, che tende, è una forza, che tende a ridurre sempre di più l'uomo, la massa, cioè la società, allo stato animale. Si mangia, si beve, si dorme, però il pensare, il concentrarsi, il sacrificio, l'approfondimento, viene sempre meno. da una parte c'è questo grosso movimento, dall'altra, è un po' simmetrico, un po' più divertente, io vedo che c'è una sorta di umanizzazione della bestia. Io vedo, soprattutto nelle grandi città, il cane, che si mettono le scarpette, oppure il gatto, che si vizia tantissimo, per cui, contrario a questa bestializzazione dell'uomo, notiamo questa umanizzazione dell'animale. Un altro elemento fondamentale, a mio avviso, è considerare che i neurobiologi, gli scienziati, hanno diviso il nostro cervello in tre parti. C'è la parte istintuale, ci dicono gli scienziati, la parte istintuale del nostro cervello ci accomuna agli altri animali, dal coccodrillo, al serpente, eccetera. Cioè, ho fame, mangio, ho sete, bevo, ho sonno, dormo, eccetera. Il livello superiore, ci dicono i neurobiologi, del nostro cervello, è la parte emozionale. La parte emozionale, noi la condiviamo, cioè, l'uomo, l'uomo la condivide soltanto con alcune specie animali, che sono quelle un po' più raffinate. Il delfino, il cane, il gatto, la scimmia. Cos'è, ci dicono gli scienziati, i neurobiologi, che l'uomo animale si distingue dagli altri animali? È la parte corticale. La parte corticale. Che nessun altro animale, nemmeno la scimmia, ha. Il problema centrale di oggi è che questa, la corticalità, cioè la parte corticale, la più raffinata del nostro cervello, viene usata sempre meno. Perché essa richiede sacrificio, richiede attenzione, richiede approfondimento. E come dicevano i nostri vecchi, i nostri nonni, senza sacrificio non nasce virtù. Ecco che oggi, soprattutto nei giovanissimi, è scomparsa questo senso della ritualità, dell'attenzione. Oggi con internet hanno tutto, però c'è tantissima orizzontalità, c'è tantissima superficialità, perché c'è troppa facilità ad avere le cose, le immagini, la musica, eccetera, e sta scomparendo la verticalità, cioè l'approfondimento, l'approfondire le cose. Ecco che se l'uomo non usa più la parte corticale del suo cervello, rischia una regressione allo stato animale. Quando in questa piazza, in altre piazze, noi sentiamo una musica che fa e magari sentiamo un ragazzino che dice che bello, che bello, siamo di fronte a una regressione allo stato animale, perché non c'è più polifonia, non c'è più melodia, non c'è più articolazione di pensiero. Capite? Oppure quando noi nel telefonino, eccetera, non scriviamo più, ma attraverso l'immoi, dialoghiamo, attraverso la faccina, eccetera, anche lì è una regressione alla scrittura del simbolo, alla scrittura dell'immagine, immediata, e il concetto, l'approfondimento, eccetera, viene meno. E questa è una considerazione di fondo, a mio avviso, molto importante, ed è straordinario considerare questo. Proprio in questi giorni è uscito una riedizione di un libro importantissimo, centrale, un libro che, a mio avviso, fonda tutta la nostra cultura occidentale, ed è il Timeo di Platone. Nel Timeo di Platone, che è il suo dialogo forse più completo, forse più profondo, che comunque raccoglie tutto il suo pensiero, nel Timeo, che sto rileggendo, che è un libro, vi dico, la nostra civiltà ha tre libri fondanti, uno naturalmente è la Bibbia, gli altri sono i libri di Omero, l'Iliade e l'Odissea, e il terzo, senza dubbio, è il Timeo di Platone. Tutto quello che l'uomo occidentale può pensare, è approfondito con la filosofia, eccetera, lo ha già detto Platone nel Timeo. In un passo che ho riletto in questi giorni, Platone nel Timeo ha questa coincidenza straordinaria con i scienziati che vi dicevo, dice, l'anima ha tre parti, dice Platone, nel IV secolo prima di Cristo, l'anima ha tre parti, e poi dice, Dio, dice Platone nel Timeo, ci ha donato come un demone, il demone. Badate bene che il demone non è il demonio, sono due cose completamente distinte. Il demone è il daimon socratico, è la forza che regge, è l'ispirazione. e quando noi diciamo, facciamo bene una cosa, qualsiasi cosa, sport, studio, lavoro, con entusiasmo, l'etimologia è en zeos, in Dio, quando siamo posseduti dal Dio, vi ricordate Socrate, il daimon, il demon, entusiasmos, en zeos, allora io sono posseduto dal demone, dal daimon, trova il tuo daimon, e il tuo daimon è la tua forza, è il tuo carattere, è il tuo destino, e il demone invece è il male, è il demone, il demone dei cristiani, oggi abbiamo un grande posseduto dal male, dal demone, che è Putin, che sta facendo delle cose orrende, veramente, a mio avviso, non è solo un uomo cattivo, ma è un uomo che probabilmente ha bisogno di un esorcista, perché non può fare quello che sta facendo un uomo normale, non è normale. Ecco, detto questo, poi c'è un'altra fase molto importante che dice Platone nel Timeo e dice occorre innalzarci da terra verso la dimora originaria del cielo. Bellissimo questo, occorre innalzarci da terra verso la dimora originaria del cielo, per cui l'uomo da bestia, noi siamo animali, però abbiamo questa corticalità, che ci può portare a pensare alla divinità, a pensare a una trascendenza. L'altro nucleo centrale che non hanno gli altri animali è che noi, che abbiamo una mente finita, possiamo pensare l'infinito. E questo è sconvolgente. L'uomo ha una mente finita, però può pensare l'infinito. E da qua nasce la filosofia, cioè la ricerca della sapienza, qua nasce l'arte, qua nasce della letteratura, eccetera, eccetera. Perché se noi fossimo esseri perfetti o assolutamente felici non avremmo né filosofia, perché saremmo sapienti e non ricercatori della sofia, della sapienza, e essendo felici non scriveremmo, non produrremmo arte, eccetera. L'arte è sempre uno sfogo, è sempre qualcosa di... Ecco, detto questo, come dire, mi sembrava, mi sembra un'introduzione generale, come vi dicevo, di quanto la nostra animalità dialoghi con un'altra animalità. E questo confronto è molto importante. Un'altra cosa di Platone, e questo che noi non condividiamo come cristiani, ma è un fatto centrale del suo pensiero, come sapete, Platone, come i buddhisti, credeva nella reincarnazione. Lui la chiama metempsicosi, vi ricordate? Metempsicosi. Cioè, l'anima, se si comporta male attraverso l'uomo, eccetera, si rincarna dove? In una bestia. Allora, se si comporti male diventi un asino, la tua mano, l'atma, oppure un maiale, oppure un altro. Allora vedete le forti relazioni tra uomo e animale, animale e uomo. Detto questo, ho fatto questa premessa, ripeto, a mio avviso fondamentale, il primo spazio, il primo diaframma in cui noi incontriamo questo rapporto, anche traumatico, anche molto drammatico, tra l'uomo e l'animale, naturalmente, sono i graffiti stupendi, qua ne vediamo uno, di Lascaux e Altamira, ce ne sono altri, Lascaux, come sapete, è praticamente quasi al centro della Francia, centro-sud, verso ovest, Altamira invece è al nord della Spagna. Ecco, anche qua, naturalmente, c'è, come in molta arte, c'è ritualità, c'è terapia, sofferenza, e la rappresentazione di questi bufali, di questi animali, eccetera, che risalgono circa 17 milioni di anni fa, per cui un tempo veramente estremo, e narrano di queste vicende. Badate bene che la terapia, la terapia dell'arte è molto diffusa, se pensiamo che anche il teatro greco, il teatro nasce come terapia, il primo teatro arcaico è un teatro terapeutico, perché quando un uomo vive un trauma, un forte trauma, di vario genere, un suicidio, lo rivive in un palcoscenico cercando di normalizzarlo, cioè quello che è estremo, quello che è totalmente diverso da noi, l'altro si cerca di rivivere attraverso il teatro e il palcoscenico proprio per normalizzare un evento che è stato un evento traumatico. Dunque abbiamo detto Lascaux, qua vedete i primi esempi, i bisonti, sono opere che anche Picasso riteneva estremamente belle, estremamente importanti e c'è già, ci sono anche già degli elementi di astrazione, sapete che poi l'astrattismo è stato codificato da Kandinsky, il primo acquarello astratto nel 1910, in realtà l'astrazione è sempre esistita, se guardiamo una corteccia di un albero, se guardiamo la sua chioma o se ci guardiamo il palmo della mano cosa c'è di più astratto? Allora possiamo sintetizzare così che noi chiamiamo astratto una cosa non consueta, una cosa diversa e chiamiamo invece figurativo una cosa ovvia, se noi ci guardiamo la mano è una cosa estremamente astratta, però è talmente domestica, è talmente ovvia che non ci facciamo più caso, così come la corteccia. e ci sono degli elementi di astrazione anche in queste primissime rappresentazioni primitive. Ecco, facciamo un salto in avanti, qua siamo nel mondo greco, quello che fonda veramente come dicevamo la nostra civiltà e questo è un mosaico che tutti noi conosciamo, che tutti voi conoscete, è conservato a Palermo al Museo archeologico e in questo caso l'animalità viene come dire addomesticata. Prima in Lascaux e Altamira nei primitivi si rappresentava questa lotta, la caccia eccetera perché come dire speriamo che domani vada bene, dobbiamo mangiare eccetera vediamo che invece per la prima volta nel mondo greco con il mito di Orfeo vedete al centro il famosissimo Orfeo siamo circa nel sesto secolo avanti Cristo e Orfeo è questo mito straordinario arcaico appunto della Grecia preclassica che con il canto della sua chitarra che sarebbe poi l'arpa che sarebbe la lira con questo suono magico con questa armonia straordinaria addomestica gli animali e badate bene che è l'archetipo il modello del gesto per esempio vedremo dopo con Giotto di San Francesco d'Assisi anche San Francesco d'Assisi vi ricordate parla col lupo smettila di portare paura eccetera eccetera dammi la mano oppure vi ricordate lo vedremo alla predica degli uccelli il gesto è lo stesso per cui in questo caso nel mondo greco lo vedete lo vediamo in questo splendido mosaico vedete Orfeo che ha tutto intorno le varie bestie le varie animali l'uccello il leone il cervo la tigre eccetera perché attraverso questo suono riesce a armonizzarli riesce a addomesticarli cioè li rende come dire armonici e non più nemici guardate bene che con Orfeo nasce il pitagorismo e per la prima volta abbiamo una civiltà almeno degli uomini vegetariani questo è molto interessante cioè l'animale non è più un nemico non è più quello da abbattere ma diventa un amico diventa diventa una un essere da rispettare un essere con cui si dialoga i primi vegetariani sono i pitagorici cioè che rispettano l'animale e non uccidono più l'altro animale da sé in realtà per esempio io ho qualche polemica con i vegani e trovo un estremismo nei vegani nel veganismo sapete che non mangiano i prodotti derivati dall'animale per cui l'uovo e le altre cose lo trovo un estremismo i vegetariani no, li rispetto molto in pratica anch'io sono un vegetariano perché la carne non la mangio quasi più ma lo trovo l'estremismo perché perché negano la tragedia centrale dell'essere che qual è qual è la tragedia la nostra tragedia centrale è che noi per vivere dobbiamo uccidere un altro essere che sia un pomodoro che sia un fagiolo che sia un insalata che sia qualsiasi cosa ma noi per vivere dobbiamo comunque uccidere e che ne sappiamo io domando a un vegano che ne sai tu che un pomodoro che mangi abbia meno dignità di un coniglio che è molto più antropomorfico oppure di di un bue oppure di un capretto il capretto è l'animale più antropomorfico che esiste che non il pomodoro per cui mi sembra mi sembra un po' eccessivo perché ripeto i vegani a mio avviso negano la tragedia che avevano capito i greci antichi cioè che per vivere ripeto l'uomo deve uccidere un altro essere procediamo con questa carellata iconografica storica un primo piano di Orfeo con la chitarra che poi l'etimologia sarà chitarra naturalmente qua è troppo piccolo ecco poi naturalmente nel nel mondo occidentale greco ci sono varie figure varie varie storie varie miti questo è un achilix cioè una una coppa famosissima sempre greca arcaica che rappresenta sulla destra prometeo vi ricordate il mito di prometeo che dona il fuoco è complice dell'uomo forma l'uomo ed è complice dell'uomo contro Zeus e dona all'umanità il fuoco e Zeus vi ricordate si si bestialisce di questa cosa e punisce prometeo lo fa incattenare infatti prometeo prometeo incatenato e tutte tutto il giorno tutti i giorni l'aquila gli mangia il fegato di notte l'aquila non c'è più e il fegato ricresce già i greci sapevano che il fegato ricresce voi sapete che un fegato affaticato dall'alcol e da altre cose se si riposa tre mesi sei mesi le cellule si riformano a sinistra avete Atlante l'altro castigato che regge deve reggere per punizione il cosmo regge il cielo prometeo ecco sempre l'aquila l'animale in questa prospettiva cattiva e questo è un dipinto facciamo un salto molto ampio siamo verso la fine dell'ottocento gustavo moro simbolista e vedete l'aquila a sinistra è una rappresentazione appunto ottocentesca molto più moderna molto più vicina vicina a noi ecco un altro che ho messo questo è un pittore molto importante Rubens vedete la dinamicità dell'aquila soprattutto la dinamicità del movimento michelangelesco direi di 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 prometeo e Rubens come sapete questo grandissimo pittore del seicento fiamminco di anversa che ebbe un successo enorme aveva 50 60 laboratori sotto sotto di lui e un po' il traidignon il passaggio tra tiziano poi lo vedremo che è uno dei grandi maestri del cinquecento e della croix Rubens un grandissimo pittore tecnicamente straordinario molto barocco che fa del movimento che fa del teatro che fa della dinamicità di tutto il cuore del senso più alto della sua pittura ecco un altro tema mitologico classico e arcaico ripreso da molti pittori è l'eda il cigno qua vedete abbiamo un olio probabilmente è Cesare da 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 sesto Cesare da sesto come sapete è uno dei grandi leonardeschi quando Leonardo va a Milano per gli sforza fonda questa scuola molto brillante e Boltraffio Solario Luini Melzi Dogiono eccetera e spesso quando i quadri non sono firmati non si sa non si sa è un leonardesco è uno di questi rimane un disegno di Leonardo l'olio è andato perduto e ci sono alcuni esempi come questo che alla galleria borghese di di Roma e cosa rappresenta vedete sulla destra c'è il cigno e e poi questa bellissima donna l'eda il cigno chi è il cigno naturalmente Zeus che vi ricordate lui si trasforma sempre per possedere una donna è molto furbo è molto astuto e non non va direttamente all'intento ma fa della metamorfosi appunto si trasforma in questo caso in un cigno in un animale molto dolce molto bello si fa accarezzare eccetera eccetera e infine arriverà a possedere la 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 fanciulla l'eda proprio grazie a questo trucco della metamorfosi della della trasformazione qua abbiamo facciamo un salto indietro vedete il cigno centrale questa è una scultura romana il senso è lo stesso però in questo caso nel fatto nel marmo. Ecco qua abbiamo un altro classico dell'iconografia diciamo greca ripresa dai moderni, questo è uno dei capolavori di Tiziano ed è Europa, che era una bellissima principessa, che viene rapita dal toro, il ratto d'Europa, il rapimento di Europa. Questo è un capolavoro di Tiziano, che sapete essere uno dei grandi maestri di quegli anni, siamo tra la fine del 400 e i primi anni del 500 e in quegli anni l'Italia ha veramente conosciuto un momento di esplendore enorme, perché se noi consideriamo che sono contemporanei Raffaello, Michelangelo, Tiziano, un po' prima Leonardo, per cui avete questi quattro nomi, quattro o cinque nomi colossali, erano contemporanei, Tiziano a Venezia, gli altri a Roma, eccetera. In mezzo mi piace ricordare un altro genio colossale che a mio avviso è stato forse il più grande genio, il più sfortunato genio della storia della pittura, parlo di Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto era contemporaneo di Tiziano, era contemporaneo, va a lavorare, nei primi anni del 500 va a lavorare nelle stanze di Raffaello. Lui è un genio più popolare, con una pittura molto più semplice, molto più, permettetemi, lo slang è stato il genio più sfigato della storia dell'arte, perché si deve confrontare con Raffaello, Michelangelo, e nella sua patria, appunto, a Venezia con Tiziano, che Tiziano era un pontefice. Quando Tintoretto, il Tintoretto è il figlio del Tintore, Jacopo Robusti, da ragazzo, aveva circa 15 anni, 20 anni in meno di Tiziano, andò a lavorare nella bottega di Tiziano, quando Tiziano si accorge che Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, è un genio, dopo 15 giorni lo manda via, perché lui doveva essere il pontefice, non permetteva, e guardate bene che anche oggi nelle università o nella politica, eccetera, se c'è il barone, diciamo il pontefice, è difficile che coltivi quello molto bravo, perché lo potrebbe mettere nell'ombra, di solito il politico cosa coltiva l'assistente che è un po' scarso, perché così non gli mette ombra, questa è la verità. Questo è un capolavoro straordinario di Tiziano, vedete questa luce, questo cielo meraviglioso, che è custodito al museo di Boston di Isabella Stewart Gardner, che è stata questa grande mecenate, che poi fondò questo museo, e fu lei che si innamorò del giovane Berenson e gli pagò gli studi a Firenze, quando lui era un giovanotto, vi ricordate Berenson era lituano e va a vivere poi prima a New York, e Villa Tatti, vicino a Firenze, che adesso è un segmento, il segmento italiano dell'università di Harvard, fu sponsorizzata da questa Isabella Stewart Gardner, che creò proprio a Boston, a New York, eccetera, in tutta la parte ovest, est, scusate, degli Stati Uniti, un grande collezionismo. Qui facciamo un salto indietro, sempre il ratto d'Europa, vedete Zeus che si trasforma in toro, e porta via Europa, questa bellissima principessa. Un altro esempio è Rembrandt, questa è una chiave, come dire, un po' più popolaresca, mi sembra. Diciamo, Rembrandt è più grande poi negli autoritratti o negli ori. Questa è una narrazione che, secondo me, di confameno, però è sempre un gran dipinto. Anche qua vedete sulla sinistra il toro bianco, Zeus, che rapisce Europa. Il quadro è molto modulato, con questi cavalli, questo carro, è l'oro che ritorna, che è il bronzo e l'oro, che è una delle cifre stilistiche fondamentali di questo grandissimo pittore olandese. Ecco, qua facciamo un piccolo salto, ci ancoriamo però sempre a Omero, la maga Circe, Melinda, forse la maga Buona, le interpretazioni sono varie, di un grande pittore manierista, lo ricordate, Dosso Dossi, Ferrara, Mantova, Le Corti, eccetera. E qua abbiamo questo cane, questo cane buono, il cane naturalmente, come viene detto, giustamente anche in questa mostra, Cless, è con il cavallo, è l'amico, l'animale amico dell'uomo, il fedele, eccetera. E qua vedete la Circe presa dall'Odissea di Omero, l'incantamento, c'è questa magia, vedete sulla destra c'è un giorgionismo netto, l'esempio più forte è quello di Giorgione. E tuttavia, Dosso Dossi, come manierista, ha questi toni, ha questi colori molto particolari. E tutti i manieristi, badate bene, cioè quelli che lavoravano, secondo Vasari, dovevano lavorare, non potevano che dipingere secondo la maniera di Raffaello e Michelangelo. Vasari dice, dopo Raffaello e Michelangelo, Tiziano lo conosceva bene, meno Vasari dice, vi ricordate, non si può più fare arte se non ammanierando, cioè alla maniera di questi grandi maestri, perché secondo la sua teleologia, cioè finalità, l'arte aveva raggiunto, che è una cosa sciocca, l'arte aveva raggiunto il suo apice con Raffaello e Michelangelo, tutto quello che sarebbe venuto dopo non poteva che essere una maniera. In realtà, come sapete, il manierismo conosce dei grandissimi pittori, come Pontormo, come Rosso Fiorentino, come Bronzino, eccetera, e si distinguono da Raffaello, Michelangelo e Tiziano, di solito perché hanno colori più forti, più fosforescenti, hanno un'inquietudine del colorismo, della forma molto forte. Qua, per esempio, Dosso Dossi riesce a dare questa idea di incantamento della maga, della strega. Il cane, questa figura, la fiamma sulla destra, e poi guardate in alto, c'è un particolare molto interessante, vedete che ci sono come dei pupazzetti imprigionati all'albero. Vedete un dettaglio, ma non è un dettaglio da poco, perché quelli sono dei prigionieri, degli uomini, dei guerrieri che sono stati catturati e resi dei babacci, per cui c'è il gesto magico, c'è questa grande potenza della maga. Ecco qua un dettaglio, vedete questo grigio, questo tono molto particolare del cane. Ecco, naturalmente sugli altri animali, qua vado un po' a braccia così, naturalmente la lupa capitolina, questo animale mitico, la leggenda. La lupa, come sapete, è un'opera etrusca, sicuramente etrusca, mentre i due bambini sono Romolo e Remolo, naturalmente, della leggenda, però sono stati fatti molto più tardi da Antonio del Pollaiolo, in pieno rinascimento. Ecco qua un altro animale fantastico, molto diffuso, adesso anche nei libri dell'infanzia, eccetera, eccetera. La chimera. Questo è un mosaico bizantino, molto particolare, che troviamo a Ravenna, nella chiesa di San Giovanni. L'unicorno. L'unicorno è particolare perché, da una parte, ha radici bibliche, probabilmente è rinoceronte. Il rinoceronte appare ben nove volte nella Bibbia, cioè che aveva questo unico corno. L'unicorno, rappresentato qui, tra le prime volte, nella storia dell'arte, in questo mosaico a Ravenna, la simbologia del corno è la freccia, questa è molto bella, la freccia di Dio che si inserisce sull'animale e lo umanizza, soprattutto lo divinizza. Questo è interessante perché l'unicorno, il corno, ha la forma dell'obelisco. L'obelisco, sapete, è questo oggetto estremamente bello. E nel mondo arcaico egiziano, antico egizio, l'obelisco è la simbologia del raggio di sole, è la luce, è la divinità. Dunque, in questo caso, il cavallo è divinizzato attraverso il raggio divino, cioè il corno, il simbolo del corno che lo ha ferito, lo ha trafitto, un po' come una stigmate, e lo ha reso incantato, lo ha divinizzato. Sull'obelisco, che è questo oggetto, ne abbiamo tanti a Roma, a Parigi, autentici, eccetera, io devo ricordare un grattacielo, forse uno dei più belli del mondo, a mio avviso, io conosco bene New York, ci vado tutti gli anni, ed è The Chart di Renzo Piano alla scheggia a Londra, il grattacielo, che è bellissimo, mi sono andato più di una volta a vederlo. E Renzo Piano lì ha avuto, secondo me, veramente un colpo di genio, perché è un obelisco, e nessuno ci aveva mai pensato. Vi ricordate, tutti i grattacieli sono dei parallelepipi, c'è quello più alto, c'è quello più alto, c'è meno alto, c'è la torre, quello più massiccio, però nessuno, prima di Renzo Piano, aveva pensato di fare un grattacielo a forma di obelisco. E se noi guardiamo The Chart, che lui chiama la scheggia, è un obelisco in forma di vetro, di cristallo, ed è uno dei grattacieli più belli che si possono vedere. Ecco, qua passiamo al mondo romanico e i capitelli. I capitelli sono un momento molto importante del mostruoso, dell'animalità, di questo fantastico, di questo grottesco, di queste rappresentazioni. Qua siamo a Mosac, una delle grandi abbazie romaniche francese, e il capitello rappresenta Giona e la balena. Vedete che c'è la testa della balena, si intravede in basso, e Giona viene estratto, vedete il sedere, la schiena, viene l'episodio biblico, e questo metto che si copre la mano, dice, no, non voglio vedere, è un disastro, una cosa. Naturalmente tutta la scultura, vi ricordate, dai Greci fino al Rinascimento, eccetera, era molto colorata. Anche questi capitelli, vedete, c'è questo rosso, eccetera, erano molto, molto colorati. E noi, dunque, abbiamo una ricezione della scultura, soprattutto classica, attraverso il neoclassicismo, molto bianco, austero, grigio, non è affatto così. Non è affatto così. Anche il mondo greco, la scultura greca, era coloratissimo. Erodoto parla del tempo, per esempio, di Apollo, Adelphi, parla di ori, rosso, blu, sempre più una roba che possiamo vedere a Las Vegas, che non una roba così austera. Anche questo, il mondo, il mondo dei capitelli romanici era molto colorato. Qua, sempre a Mosac, sempre Gione e la balina, vedete l'altro episodio, quando la balina inghiotte il profeta. Ecco, qua passiamo a una chiesa che amo molto, è Sant'Antimo, in Toscana. E questo è il maestro di Cabestani, un romanico francese trapiantato in Toscana. Ha questi capitelli con questi animali fantastici, vedete, una sola testa e due corpi. Poi questo simbolo ionico che ritorna spessissimo, questo simbolo greco molto simbolico. Qua siamo sempre a Sant'Antimo, che è questa chiesa vicina a Montalcino, molti di voi conoscono. E qua è Daniele nella fossa dei leoni, vedete i leoni, che lui ingiustamente viene gettato lì, e poi però salvato perché si riconosce che lui era innocente. Chissà come era tutta colorata, ecco, adesso è grigia così. Ecco, qua siamo sempre sul romanico, il drago, che è un'altra presenza forte. Qua di nuovo siamo a Moissac e abbiamo, vedete, il demonio che esce dal vitello d'oro. Mosè fa uscire, qua siamo, scusate, a Veslè. Veslè, qua abbiamo la rappresentazione di Mosè, con aronne sulla destra, e Mosè fa uscire il diavolo dal vitello d'oro, dall'idolotria, il male che deve scomparire. Ecco, qua abbiamo una scultura barocca, senso aggettivale, molto forte, siamo sempre in Francia, su Iac, c'è questo maestro di Moissac che lavora anche qua, e qua c'è veramente del mostruoso, vedete questo intreccio tra gli animali, questo è l'uomo, eccetera. E qua è interessante perché volevo fare un breve approfondimento in questa polemica che vede San Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo di Clairvaux, che fonda diversi monasteri, e che vede queste cose, siamo nel 1100 circa, 1150, vede queste cose e si arrabbia e scrive ma cosa sono queste scimmie sporche, questi leoni feroci, questi mostruosi centauri, questi esseri semi umani, si vede un quadrubbite con la coda di un serpente, c'è un pesce con la testa di una capra, eccetera, eccetera. Cioè, il grande San Bernardo si scaglia contro queste rappresentazioni perché lui ritiene che portino fuori questo barocco, questa eserazione porta estranei da quello che deve essere la concentrazione, lo studio veramente della Bibbia, del Vangelo, eccetera. In questo senso volevo fare un breve approfondimento. C'è questa polemica molto bella, molto importante, secondo me, tra San Bernardo, che condanna questo eccesso di rappresentazione, i mostri, il fantastico, il grottesco di questi capiteli di Suillac, di queste sculture, con Suget, l'abate Suget di Saint-Denis. Come sapete, Suget è stato il maestro assoluto del gotico, la prima chiesa gotica che si conosca appunto a nord di Parigi, è Saint-Denis, che sarebbe San Dionigi, la Riopagita, che è stato questo grande santo di Atene ai primi anni del 100-200 d.C. C'è questa polemica forte perché, come sapete, Suget invece riteneva che la materialità, l'arte, dunque la sensualità dei colori, delle forme, eccetera, potesse condurre alla divinità. C'è una polemica aperta e invece San Bernardo dice no, no, assolutamente no. Infatti era permesso solo nei suoi monasteri il crocifisso e non era permesso altri colori, altre rappresentazioni, perché San Bernardo riteneva l'arte, un po' come Platone, un mezzo che sviasse da quello che era l'approfondimento, la concentrazione, l'interiorizzazione. Suget è importantissimo perché crea il gotico e per la prima volta sfonda nell'ambulatorio, il deambulatorio, vi ricordate, c'è la parte interna dell'abside, quella che si cammina tra l'altare e appunto l'interno dell'abside, fonda le vetrate, cioè il gotico, il romanico, vi ricordate, piuttosto compresso, buio, basso, eccetera, invece finalmente col gotico lui inventa l'arco, non più a tutto sesto ma a sesto acuto, e poi le volte a crociera, eccetera. La vetrata, secondo Suget, era il momento fondamentale in cui la luce finalmente, e diversamente dalle chiese romaniche, portava il colore, la luce era divinità, la luce era la verticalità, era il momento della grande felicità. Questo è straordinario perché poi se noi pensiamo alla grande architettura novecentesca da Peter Behrens in avanti, la vetrata, la luce fonda tutta l'architettura nuova. Nello studio di Behrens a Berlino lavoreranno il giovane Gropius, Mils van der Rohe e le Corbusier, per cui quando l'officina Fagus, Behrens, fa queste prime vetrate, la luce poi diventa tutta l'architettura novecentesca, il grande momento. In realtà poi, ripeto, ha vinto Suget, ha vinto Suget perché comunque la nostra civiltà si fonda sul possesso, si fonda più sull'avere che non sull'essere, per cui la decorazione, i fasti, dall'automobile alla grande casa, alla barca, eccetera. Cioè l'oggetto, il possesso, diventa veramente qualcosa di molto sensuale, di molto ricco, eccetera. Passiamo oltre, ecco, vi dicevo, torniamo un po' ad Orfeo, questo è famosissimo, non ha bisogno di commento, siamo una basilica superiore di Assisi e Giotto rappresenta in maniera straordinaria la predica agli uccelli e il gesto, ripeto, è orfico. Cioè l'aveva già fatto Orfeo nel VI secolo prima di Cristo. Cioè la santità, la divinità rende pacifico l'altro, il diverso da sé, l'animale, in questo caso l'animale è l'uccello, per cui è un animale piuttosto bello, piuttosto così pacifico, e però c'è anche il lupo, vi ricordate la storia di San Francesco con il lupo, è fondamentale. Non mi trattengo su Giotto perché è un classico troppo conosciuto. Ecco, passiamo al Rinascimento. Naturalmente in tutto il Medioevo l'animale era rappresentato e visto soprattutto come allegoria, come simbolo, per cui l'animale non era rappresentato per sé stesso, ma l'animale era sempre, come dire, un'allegoria, un simbolo di qualcosa d'altro. E c'è un libro pubblicato da Delphi, molto bello, piccolino, che si intitola Il Fisiologo. Il Fisiologo è un libro che risale circa il III-IV secolo d.C. è stato scritto da un anonimo ad Alessandria d'Egitto e sono questi brevi apologhi, questi brevi, molto brevi, sono dei racconti molto brevi in cui questo anonimo descrive i vari animali, che sono animali o fantastici, o reali, o mostruosi, eccetera, e ogni storiella ha una sua morale, ha una sua storia. Questo libricino, Il Fisiologo, fonderà tutta l'iconografia del Medioevo fino al Rinascimento. Vi dicevo, al Rinascimento, quando per la prima volta con Dürer e Leonardo prima, l'animale si rappresenta per quello che è. L'intento non è più allegorico o simbolico. Vi ricordate il caso più classico, famosissimo, Dante? Allora, la lonza, la lince, è la lussuria, vi ricordate all'inizio dell'inferno. Il leone, la superbia, la lupa, la cupidigia, cioè l'attaccamento ai beni terreri. Questo è il caso classico, cioè di un animale che diventa simbolo, soprattutto allegoria, di qualcosa d'altro. Nel mondo rinascimentale, no. Per esempio, Dürer, forse più di Leonardo, poco dopo Leonardo, vedete, per esempio, dipinge in maniera strepitosa in questo pastello, in questo disegno, un coniglio. E il coniglio è quello che è. Cioè, Dürer non ci vuole dire il coniglio rappresenta anche quella roba lì, il coniglio può essere quella... No, no, Leonardo prima e poi Dürer rappresentano in maniera... Dürer, per esempio, in maniera quasi ossessiva, in maniera quasi isterica. Perché Dürer è il fiammingo e è noto come il mondo fiammingo a partire dal Trecento, un mondo soprattutto fondato sulla miniatura, sul gesto micografico, cioè questo amore estremo per il dettaglio, per il minimo, per il particolare. E Dürer, che poi sposa il rinascimento italiano, però nel mondo tedesco, cioè nel mondo in parte anche fiammingo, coniuga questo micrografismo fiammingo tedesco molto forte con un'apertura di spazio tipica da Piero della Francesca, Paolo Uccello, eccetera. Ecco qua il particolare dell'occhio. Ecco, per esempio, questa ala di Dürer è stupenda, questo acquarello e pastello. vediamo questa gioia immensa dei colori, dell'arcobaleno, del particolare, eccetera. Però vedete, è molto scientifico, è un ala, un particolare, io la descrivo, ma non c'è nessun intento, come dire, simbolico, allegorico, eccetera. Ecco, un altro tema che ho individuato così, a sommi capi, ripeto, questo nostro incontro, il tema, essendo così vasto, è molto di più quello che esclude che non quello che include, perché il tema, gli animali, l'arte, sarebbe veramente, occorrerebbero un corso, non so, di dodici ore, forse uno riesce a dire qualcosa, in un'oretta, è veramente così. Per cui, mi sono divertito a trovare soltanto alcuni punti iconografici, famosissimi. E, in questo senso, San Giorgio, il Drago, è uno dei grandi classici, soprattutto del Rinascimento. Che cos'è il Drago? Volevo citare una frase bellissima di uno dei miei scrittori preferiti, che è Jorg, Luis Borges. E Borges, in un suo libro molto importante, il libro degli esseri immaginari, Zoologia fantastica, si è divertito, insieme a questa Guerrero, anni fa, a raccogliere i più disparati animali, fantastici, dall'enciclopedia, alle storie, alle fiabe, eccetera. Questo suo libro, il libro degli esseri immaginari, è un raccolto, un po' come è stato un tempo alessandrino, dell'anonimo, il fisiologo, come vi dicevo, e una piccola enciclopedia che narra di tutte queste forme animalesche, febaesche, eccetera. Borges scrive, ignoriamo il senso del drago come ignoriamo il senso dell'universo, ma c'è qualcosa nella sua immagine che ci accorda con l'immaginazione degli uomini e così il drago appare in epoche e latitudini diverse. il drago è anche cantato dai poeti e se mi ricordo c'è una breve poesia secondo me del più grande poeta Tukur del Novecento Eugenio Montale forse dovrei riuscire a ricordarmi la memoria che dice molti anni e uno più duro sopra il lago dorato su cui ardono i tramonti poi scendesti dai monti a riportarmi San Giorgio e il drago imprimerli potessi sul palvese che sagita la frusta del grecale in cuore e per te scendere in un gorgo di fedeltà immortale la poesia è bellissima le poesie montale questo grandissimo poeta proviamo a capire cosa intende questo grande poeta col drago allora la poesia dice molti anni siamo stati insieme con la donna amata e uno più duro quando tu eri malata sopra il lago della dorata in Svizzera a Lugano su cui ardono i tramonti eri malata e sei stata ricoverata lì su cui ardono i tramonti poi scendesti dai monti la literazione tramonti monti a riportarmi San Giorgio e il drago dunque cosa intende la parola la lotta ha la voglia di vivere ogni giorno è una lotta contro questo problema contro questo male contro questa difficoltà eccetera per cui anche per montale tu mi hai riportato San Giorgio il drago cioè la volontà la forza soprattutto di combattere contro il male il diverso l'avverso e la difficoltà questo capolavoro naturalmente l'avete riconosciuto è Paolo Uccello questo grandissimo maestro del pieno rinascimento siamo nel 1460 circa ed è veramente archetipico cioè un modello straordinario da una parte c'è l'impennata del cavallo il gesto di San Giorgio così molto forte invece quasi l'impassibilità della della regina vedete che prende lo ha per guizzaglio il drago per cui lo aveva in pratica già domesticato ce ne sono tantissime versioni naturalmente di San Giorgio il drago Donatello questo è Raffaello grandissimo maestro vedete già questo sfumato un po' leonardesco ecco Leonardo vi dicevo come ben sapete viene un pochettino prima sia di Michelangelo sia di Raffaello e l'idea di sfumato il prima dipingere l'atmosfera un po' di nebbia questo senso dell'umidità eccetera è stato Leonardo Leonardo è un genio assoluto da lui derivano questa capacità straordinaria di dipingere l'atmosfera Giorgione un grandissimo maestro che fonda tutta la scuola veneta e Raffaello e vedete in questo caso nel San Giorgio il drago di Raffaello vedete questa atmosfera molto particolare molto molto naturalistica ecco qua abbiamo un altro capolavoro questa è la versione che ce le dà Carpaccio a Venezia e qui a pagine stupende a descrivere questo ciclo Roberto Longhi Roberto Longhi vi ricordate è stato un grandissimo forse il più grande storico dell'arte del novecento italiano e c'è un po' questa Bibbia che abbiamo letta tutti per noi che è il meridiano Mondadori da Cimabù e Amorandi che è un libro che ha enormi capacità letterarie cioè Roberto Longhi è stato un grandissimo scrittore ed è sempre un grandissimo piacere leggerlo si legge come un grande romanziere e lui come sapete ha preso anche dei grandissimi svarioni perché demolisce Tintoretto cerca di demolirlo Tintoretto rimane un genio oppure Canova oppure Tiepolo ci sono due paginette su Tiepolo comicissime straordinarie oppure certe cose sul duecento eccetera però al di là di questo Roberto Longhi rimane un grandissimo storico un grandissimo scrittore e vedete come in Carpaccio che ripeto lui descrive ha delle pagine stupende in Viatico per cinque secoli della pittura veneziana vedete come la pittura è molto più asciutta molto più secca rispetto ai casi di prima vedete come è sontuoso ricco Raffaello e Paolo Uccello invece Carpaccio è molto più disegnato siamo nel 1502 per cui tre anni prima il questo di Raffaello vedete come c'è una tempera e vedete come il fondo è molto molto più drammatico questi teschi questi questi morti squartati mutilati eccetera per cui in Carpaccio c'è una visione molto più drammatica molto più più tesa ecco questo è un altro quadro bellissimo meno noto molto meno noto di di questo di questo tema iconografico famosissimo ed è di Jan van der Strette che poi diviene in italiano Giovanni Stradano siamo nel 1564 vedete non ci possiamo sbagliare vedete queste tinte un po' fosforescenti di San Giorgio del del della 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 questi gialli che tendono un po' questa luminosità molto forte questi arancioni eccetera quando vediamo questi toni non ci possiamo sbagliare siamo di fronte a un manierista cioè uno che viene da un grande pittore che viene dopo Michelangelo e Raffaello collaborò con Colvasari in alcuni cicli pittorici e vedete che anche qua c'è questa congiunzione tra lo sfumato il leonardesco questa pittura molto morbida atmosferica però con questo cadavere in primo piano queste viscere che ricordano un po' il carpaccio per cui c'è questa combinazione dei due elementi ecco passiamo ad un altro tema molto noto è quello di è quello di del con leone ma sono San Giorgio e leone qua siamo sano di Pietro il tempo rimane poco vado avanti di nuovo carpaccio sempre questa pittura più asciutta San Giorgio arriva questo leone vi ricordate e scappano tutti i monaci invece il grande santo San Giorgio mi dice no ferma questo ci penso io e addomestica la veste vi ricordate poi in molte rappresentazioni gli toglie la spina si è fatto abbastanza tardi sì e cima da Conegliano nel deserto Tiziano e qua Caravaggio senza senza il leone quanto abbiamo ancora cinque minuti ecco qua c'è un salto nel nel iconografico abbastanza forte ecco qua lo riconoscete tutti è Goya grandissimo Goya tra la fine del settecento e i primi anni dell'ottocento e l'animale torna a essere una presenza molto misteriosa enigmatica molto difficile qua qua c'è c'è il sabba delle streghe per cui presenze maligne siamo alla fine del settecento e poi la lampada del diavolo con questi cavalli che ricordano un po' Fusli in questo caso ripeto la declinazione animalesca torna a essere qualcosa di molto ambiguo di molto molto drammatico passiamo oltre Gericot naturalmente i cavalli siamo in pieno romanticismo e Gericot come sapete è stato un grandissimo pittore poco prima di Delacroix che rappresenta l'animale in forma di inquietudine l'animale diventa soprattutto il cavallo in Gericot diventa l'elemento più angosciante angosciato inquieto il movimento la dinamica eccetera vedete di nuovo qua il grande Gericot ecco e poi due parole su Delacroix Delacroix è un pittore grandissimo e c'è questo gesto che mi soffermerei un attimino e concluderei vedete che il suo grande maestro il suo grande punto di riferimento è Rubens lui adorava Rubens questi bestie questi animali il movimento vedete la dinamicità mentre prima il mondo neoclassico era molto fermo era molto statico e il gesto fondamentale qui vorrei concludere di Delacroix secondo me un fatto centrale della cultura occidentale nel 1832 vi ricordate lui fa il viaggio in Nord Africa e visita Tangeri in Marocco e poi Algeri in Algeria e questo è fondamentale questo è fondamentale perché tutta l'arte del Novecento poi si rivelerà essere così grande perché rompe la centralità europea e fino a Delacroix l'arte europea guarda essenzialmente la Grecia ed è un'arte che è autoreferenziale e eurocentrica quando Delacroix per la prima volta nel 1832 si reca nell'Africa in Nord Africa rompe questo cerco magico della grecità cioè dell'archetipo antico e inventa qualcosa di nuovo e tutti altri grandi maestri del Novecento Paul Klee Matisse Nicolas Destal eccetera sono andati in Africa Nord Africa Monet 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 se non fosse andato in Algeria probabilmente non avrebbe esploso la sua bomba cromatica ci sono delle lettere di Monet straordinarie l'esplosione della luce così come in Destal o in Paul Klee è in Africa è in Africa e c'è una frase bellissima a cui concludo di Delacroix che dice nel suo diario sapete ha scritto questo diario bellissimo dice qui persino l'ombra prende dei riflessi turchesi chi aveva già detto questa cosa qua persino qui persino l'ombra prende dei riflessi turchesi si credeva che il primo a parlare di ombre colorate fosse stato Renoir no? no no è stato Delacroix e vedete questa esplosione di luce l'abbiamo solo grazie ripeto alla rottura dell'autoreferenzialità europea e gli impressionisti non solo guarderanno con Monet all'Africa ma soprattutto all'Oriente all'Oriente delle stampe giapponesi senza stampe giapponesi noi non avremmo tutta la pittura da Monet in avanti concluderei qua grazie Paolo a me personalmente è piaciuta molto questa strata perché hai fatto quello che nei vari interventi che abbiamo calendarizzato non ha fatto nessuno cioè hai utilizzato tra virgolette gli animali pur raccontandoli nel loro significato simbolico storico per diciamo raccontare un bel pezzo di storia dell'arte mi sembra di essere tornata indietro alle questioni universitarie dove c'era modo di poter vedere opere confronti connessioni tra artisti periodi quindi questo a me è piaciuto molto non so se ci sono domande che da sottoporre no sei stato bravissimo sei stato esaustivo sei stato bravissimo no mi piaceva perché avevo a fianco appunto Ivan Zanoni non so se posso permettermi però sentivo che ogni tanto come dire consentiva o come la percezione che ho avuto è che in alcuni casi adesso non mi ricordo in specifico quale ci fosse stata quasi un suggerimento ah il testo il testo non mi viene in mente che hai chiesto a Marcello che ha nominato la eh il fisiologo il fisiologo sì sì un libro editato da Adelphi l'ho trovato un libricino si trova sì sì un libro molto importante che fonda tutta l'iconografia il bestiario medievale sì perché Ivan appunto proviene da no no non è un bestiario no Ivan diciamo scolpisce forgia animali nel senso che l'hai visto appunto in in mostra quindi la conoscenza anche nella storia e nell'arte ma ha partecipato anche a un dialogo con gli artisti e si parlava anche proprio di questo no di quanto il significato simbolico degli animali viene contemplato oppure no dagli artisti contemporanei quindi insomma grazie grazie mille davvero e grazie a voi che avete partecipato vi invitiamo poi al prossimo e ultimo evento perché poi la mostra chiuderà il 16 ottobre e poi ce ne sarà un'altra un'altra ancora insomma Palazzo Sessorili ospita sempre eventi culturali una domanda parlava dove dove invece di fare un punto di verticalità per questo termine si scende sì sono d'accordo quello che dicevo prima sono d'accordo con lei cioè ha stravinto la linea Sujet che allora era fondante cioè comunque Sujet ha fondato il gotico è una roba molto importante oggi veramente tutto superficialità tutto luce così questa metafora cioè tutto orizzontalità anche perché c'è tantissima scelta troppa così più nessuno vuole approfondire di fondo ripeto come ho detto all'inizio cioè il problema di fondo è che soprattutto le nuove generazioni non usano più la corticalità la corticalità cioè la nostra parte di cervello più importante che ci distingue dagli altri animali che richiede sacrificio ritualità attenzione pensate un ragazzo oggi che ascolti una sinfonia di Mahler un'ora bellissimo faticoso un ragazzo che oggi lega la ricerca di Proust bellissimo un libro oppure Guerre e pace di Trostoi sono libri molto impegnativi occorre proprio ore ore questa passione ecco un mondo apatico cioè non c'è più la passione la passione è da pathos cioè il soffrire per è la passione se sei appassionato veramente tu è quello che manca cioè la passione vuol dire soffrire per tu devi soffrire per se non soffri per rimani rimani in superficie il problema di fondo è questo però secondo me ripeto concludo c'è una forza più o meno occulta più il popolo è bue meglio è più il popolo è ignorante teniamolo sotto cioè facciamo bere mangiare dormire queste cose qua proprio primordiali non facciamolo pensare tanto perché si può dominare meglio questa è la triste verità io sono convinto che c'è un grande potere più o meno segreto occulto che tiene tiene l'uomo appunto più ma del resto è sempre stato così cioè permettetevi pochissimi hanno dominato su tantissimi pochissimi una volta erano gli aristocrati eccetera non è cambiato tanto noi abbiamo la libertà io sono più di dieci anni che non vedo la tv non mi interessa più è talmente volgare che ritengo cioè ritengo la tv uno straordinario potenziale mezzo ottimo usato malissimo cioè a me fa fa schifo veramente vedere la tv oggi nel senso che io ho la scelta democratica di dire beh io non la guardo poi il 99% delle persone la guarda e la pornografia psicologica del grande fratello eccetera che è ben peggio della pornografia classica cioè secondo me trasmissione come il grande fratello qual è pornografia psicologica cioè vogliono ridurci alla servetta che dal buco della serratura ha quello si innamora di quello ma stiamo scherzando stiamo scherzando no io non ci sto e spero che tanti si ribellino a questa questa cosa qua perché se no veramente la regressione alla bestia siamo vicinissimi oppure quando io vengo dalla musica classica quando sento queste cose boom 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 ma come fai a ascoltare queste cose qua entri nei bar io frequento tanto Milano Torino così entri nei bar c'è boom boom ma stiamo scherzando cioè rispetto a Mozart un Bach un Mahler eccetera ma no è una regressione allo stato primitivo e questo è il grande prego c'è molto la questione che ha fatto l'unico che ha fatto come viene come questa capo in questa cittura è una regressione diremmo che i problemi di tutti decine l'anità e lì è un po' molto diverso con l'animale l'animale l'ha visto come l'uomo ecco l'uomo ha visto per il meno il contatto oggi che stiamo degenerando perché abbiamo perso il rapporto con l'istinto il nostro corpo e quindi è una regressione anche tutta lo scarso uso la scommissione con l'anima anche l'animale si si condivido a pieno si si è quello che abbiamo cercato di dire una riconnessione con il nostro istinto con la nostra animalità con la parte animale che possiamo parlare di Freud altri o in la via per ritornare al nostro arco-origine per avere la nostra vitalità e l'animalità va vista in non so sì 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 certo c'è anche una parte buona una parte nobile certo certo sì sì questo è innegabile un equilibrio un equilibrio io che una parte una parte una parte di noi che dovrebbe essere forse anche più approfondita però approfondirla significa si parla di Freud quindi insomma sono campi effettivamente un po' sì pericolosi anche la prima regressione viene dal Consiglio di Prento dopo sono degli apprezzini di Comunità ah sì sì certo certo questi sono le 1543 sono tra gli ultimi parlavamo una volta scorsa certo è un buon Consiglio sono gli ultimi esempi di partare un punto di vista di legale il progasticismo mi volevo considerare che è per sotto una cappa un po' sì 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 è vero è vero sì 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 cioè c'è un rapporto con l'animale e anche da una parte e dall'altra anche tutto questo secondo me il fondo che adesso lo sentiamo da pian piano nostro per l'animo parte da lì della sua maniera diretta sì 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 bene bene grazie mille a tutti e buonanotte buona serata grazie grazie a tutti Grazie.